Il pozzo funzionava proprio come sorgente di acqua, credo che sia, almeno i miei dicevano che era in contatto con il lago di Loppio, perché la zona che c'è tra questa parte del paese e il passo di San Giovanni era denominata Inaquais, ciò vuol dire che era bagnata, anche recentemente le campagne le erano bagnate qua, ho delle belle fotografie, era 20 centimetri di acqua e quindi questo pozzo è stato usato regolarmente tutto il tempo, per tutto l'anno era usato e serviva un po' come pozzo per l'acqua, per l'acqua da bere o da usare e un po' come ghiacciaia, cioè a un certo punto calavano un secchio o un cesto in fondo al pozzo a filo dell'acqua e restava lì tutta la notte e la mattina lo tiravano sotto e lo trovavano fresca. In più durante la guerra, questo me lo ricordo molto bene, abbiamo aperto il pozzo, abbiamo lasciato usare il pozzo a tutti i nostri concittadini qua della piazza perché c'erano problemi con l'acqua e loro abbiamo dato la nostra, era aperto a tutti per quel periodo lì nel 44, 43, 44 e questo pozzo è parte integrante dei miei ricordi di bambino perché cosa succedeva? Il pozzo ha una carucola, a volte un cilindro di legno e calavano il secchio con questo strumento, però il secchio spesso e volentieri cadeva nel pozzo e allora qualcuno doveva andare a recuperarlo, doveva andare in giù. Nel pozzo ci sono dei buchi nel muro per mettere le punte dei piedi, arrivavano fino a pelo dell'acqua e tiravano su. Quando succedeva per me era uno spettacolo.